Prima Conte va a casa, meglio è. Che cosa può succedere? Molti di voi stanno scrivendo, ma cosa fa? Rimane attaccato alla poltrona? Vediamo. I deputati votano stasera, i senatori votano domani. Vediamo se riusciranno a convincere, per ideale, perché ovviamente stanno ragionando di ideali, non di stipendi, non di mutui, non di compensi. Vediamo. Prima erano i traditori, gli scilipoti. Adesso, siccome ci sono di mezzo il PD e Conte, sono i responsabili, i costruttori. Com'è che li ha chiamati oggi Conti in aula? Non responsabili, costruttori. Ha usato un altro aggettivo, sostanzialmente tradotto poltronari. Possiamo tradurre in poltronari quelli che fanno di tutto pur di non tornare a casa a fare il loro lavoro, ammesso che ce l'abbiano il loro lavoro.